Lunedì si è parlato del Natale battipaiesi a Palazzo di Città con commercianti ed associazioni cittadine. Nonostante i toni sereni sembrerebbe già evidente il malcontento di molti. A preoccupare sono i pochi fondi che il Comune potrà destinare ai festeggiamenti natalizi. Il bilancio comunale ha un capitolo di spesa per gli eventi da 22.000 euro, ha spiegato l'assessore Gioia. Tolto il contributo per la festa patronale e forse un contributo per carnevale, il sindaco ha poco margine per decidere quanto impegnare per Natale. Una scelta che probabilmente oscillerà fra 10 e 11.000 euro. La proposta del nuovo format Natale 2017 passeggiando sotto le stelle che potrebbe sostituire serre d'inverno ha trovato consensi in maggioranza. Un evento attrattivo che dovrebbe portare a battipaia un flusso turistico in un itinerario che comprende tutte le piazze del centro, le comprese ed alcune periferie cittadine. Finanziare questo progetto però significherebbe rinunciare ad altro come gli addobbi natalizi per i quali già l'anno scorso si erano verificati molti dissidi. Chiederemo l'aiuto di tutti, ha concluso Gioia, anche ad imprenditori ed istituti di credito.